Se facciamo la lotta insieme, chi è che vince? Secondo te? Io? Non lo so Ma io te lo dico che sono io Chi sei tu? Matteo Rivellini Matteo? Rivellini E sarebbe? Quello che ti spacca Sì? Sì Tipo quando? Adesso Adesso? Proviamo Vuoi provare? Vai A fare cosa? La lotta Ma lo stai facendo per un video o...? No, serio Secondo te vincere cosa significa? Eh, mettermi a terra Mettermi a terra? Sì E' quello che vuoi fare? Eh, se vuoi Facciamo? Sto scherzando? Ma come vuoi tu? Io ti propongo qualcosa Dov'è che sei uscito? No, ma scherzo